Rendermi conto che non siamo solo attori e intrattenitori sullo schermo, ma che facciamo parte della vita di tante famiglie, è qualcosa che mi commuove. Parole di Terence Hill, a cui è dedicato il libro, di cui abbiamo visto la copertina, è intitolato Il suo nome è Terence Hill, una vita da film, edito da Ancora, firmato da Don Samuele Pinna in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno Don Samuele e benvenuto. Buongiorno, grazie, grazie a tutti. Allora, dopo il libro su Bud Spencer, Spaghetti con Gesù Cristo, la teologia di Bud Spencer, appunto, quando e perché hai deciso di dedicare un libro a Terence Hill, un uomo buono, sul set e nella vita? Ma l'idea c'è stata quasi subito, poi molti mi hanno detto ma perché non fai un libro anche su Terence Hill? Ma io avevo un po' di paura, nel senso che il libro su Bud Spencer sono stato aiutato dalla famiglia, da chi l'ha conosciuto da vicino, mentre su Terence Hill era un po' difficile arrivare a lui. E quindi ero lì un po' dubbioso. Poi alla fine, quando ho visto il film Il suo nome è Thomas, l'ultimo film di Terence Hill, che ho visto tre, quattro, cinque volte, è scattata un po' una scintilla. Nel senso che lì ho visto tutto Terence Hill, sia il suo aspetto lavorativo, ma soprattutto il suo aspetto umano. E allora quella frase, un uomo buono sul set e nella vita, è quello che io ho voluto poi riprendere. Non sono un critico cinematografico, quello che a me interessa è l'umano, e l'umano sia di Bud Spencer che di Terence Hill mi ha affascinato. E dunque Don Samuel, il primo capitolo è dedicato ad alcuni film che hanno fatto la storia della mitica coppia Bud Spencer-Terence Hill, e poi si conclude con una conversazione che ha avuto proprio con la moglie di Bud Spencer e con suo figlio Giuseppe. Allora, qual è il riassunto di questa chiacchierata? Cosa è emerso? Io volevo capire un po' il rapporto, se era semplicemente qualcosa sul set, oppure se c'era anche nella vita. E ho visto che sul set, tra loro due, nasceva qualcosa di magico, un'alchimia tutta particolare, che non si può studiare a tavolino. Perché? Perché c'erano delle cose in comune, e soprattutto c'era il rispetto tra le due persone. E quindi ho voluto chiedere un po' come erano i rapporti. E la signora Maria, amato donna straordinaria, mi ha detto appunto di questa sintonia che tra le loro famiglie avevano. Giuseppe ci ha anche lavorato, ha anche lavorato con Terence Hill. Ha detto che è stato uno dei momenti, dei lavori, dei film che hanno fatto insieme, più belli in assoluti. Perché Terence Hill è proprio un uomo buono, anche nella vita. Quindi metteva tutti a loro agio, quindi ha permesso a tutti di lavorare bene. Lui ha fatto la vice della regia, quindi aveva un compito importante Giuseppe in quel momento lì. E questo ho voluto un po' riprenderlo, poi ho chiesto anche le curiosità, quali film a loro sono piaciuti di più, eccetera. Però era questo l'interesse, capire un po' la figura di Terence Hill. Mentre Bud Spencer è estroverso, comunicava in più modi, facendo una vita veramente avventurosa. Terence Hill, il suo modo di comunicare era l'arte attraverso appunto il cinema o la televisione. Quindi un'amicizia potremmo dire sul set e nella vita reale, quella tra Terence Hill e Bud Spencer. Appunto un'amicizia che ci stai testimoniando anche tu. E poi come si è passati dai film proprio, ecco, icona, citiamone qualcuno, aiutami. Tu non sei tanto serrato, io no, devo dirti, allora Don Samuele faccio pubblicamente. Io non ho mai visto un film di Bud Spencer e di Terence Hill. Ci sono veramente, bisogna vederli, ecco, sì, 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 perché pare che siano. Quindi dacci qualche titolo di film proprio icona di questa coppia. Allora, prima sull'amicizia, volevo dire questa cosa qui anche, non è l'amicizia come l'abbiamo in mente noi, che si trovavano tutte le sere, che facevano davvero delle scazzottate in giro per il mondo. Era un'amicizia molto discreta, che però si basava su dei valori in comune, che erano la fede, che erano la famiglia e che erano il rispetto reciproco. Nessuno dei due aveva invidia dell'altro, anzi capivano che l'altro era un fattore in più per migliorare sia sul lavoro che nella vita. Quindi c'erano nei momenti decisivi, nei momenti importanti, un'amicizia veramente profonda che tutte e due riconoscono. E sui film, beh, Trinità, lo chiamavano Trinità, continuavano a chiamarlo la Trinità, ma il film che a me colpisce particolarmente perché dice qualcosa di Terence Hill è Botte di Natale, che è il loro ultimo film insieme, molto leggero, ma dove vengono fuori i valori in cui Terence Hill crede, perché la sceneggiatura è sua e che Buzz Spencer ovviamente condivide. Quindi la famiglia, il vero tesoro in quel film che si ricerca continuamente, ma poi si scopre essere la famiglia. Tutto nella leggerezza di una trama che è per tutti, che è per le famiglie, per i bambini, anche nell'umorismo di Buzz Spencer e Terence Hill. Ora io non ricordo il titolo, ho in mente tutte le scene, però in questo momento il titolo mi sta sfuggendo, è due super piedi quasi piatti, aiutami. Ah sì, certo. Io muoio di risate ogni volta che viene passato per tv per citarne uno. Penso sia questo il titolo, adesso in questo momento non ho... Due super piedi quasi piatti. Due, ok, quindi l'ho beccato. Abbiamo la conferma. Perfetto, l'ho beccato. Doveva essere il terzo Trinità, poi Barboni, che era il regista, che inventò poi la coppia comica come la conosciamo, decise di farlo non più western che ormai western, che era un po' finito come filone cinematografico, e inventò questa coppia di poliziotti un po' sui generis. Sì, sì, sì. È un film molto umoristico, molto comico. Eh sì, infatti, stiamo vedendo anche la locandina grazie alla regia. Io muoio di risate ogni volta che viene riproposto, davvero mi piace tantissimo. Da Terenzi Illa a Don Matteo, ecco, perché c'è questo passaggio che poi, insomma, potremmo dire, forse consacra un termine troppo riduttivo, ma che comunque fa poi conoscere davvero ai milioni e milioni di italiani la figura straordinaria di Terenzi Illa. Allora, come è diventato Don Matteo? Possiamo dire che quella è proprio la seconda parte grande della sua carriera di attore. Lui aveva in mente di fare una fiction su un prete paracadutista. Quando propone questa cosa a Fini Mesto Media, se adesso non mi ricordo in quegli anni lì cos'era, gli dicono che la Rai stava già pensando a un progetto simile, e nella correttezza di allora, Terenzi Illa allora si rivolse alla Rai e capì che il progetto Don Matteo era ancora più interessante. Io in Don Matteo rivedo questo, rivedo il fatto che la spiritualità, se possiamo chiamarla così, il sentimento di Terenzi Illa lì viene fuori. Parlando anche con gli sceneggiatori, che intervisto alla fine della seconda parte, anche loro mi dicono che è impossibile per un attore tenere una serie così lunga se uno non ci crede davvero. In quello c'è un po' quello che Terenzi voleva esprimere e lo fa attraverso la sua arte. Una cosa che io ho scoperto, che mi hanno riferito, è proprio questa. Alcune delle frasi finali che in Don Matteo si sentono quando siamo all'apice del racconto sono proprio di Terenzi, cioè cercate e scelte da lui. Questo per dire come lui ci credesse e ci creda nel progetto. Che meraviglia! Don Sapuene, abbiamo lasciato in conclusione l'ultima domanda che ti riguarda personalmente. Tu hai avuto modo di incontrare Terenzi Illa, tant'è che lui ti ha scritto anche una dedica sul libro che tu appunto gli hai dedicato. Abbiamo, ecco qui, l'immagine. Con infinite grazie per aver raccontato cose di me con affetto. Qui si evince anche davvero l'umiltà di questo uomo, il personaggio, l'attore. Allora, raccontaci il tuo incontro con lui. Sì, la prima volta che l'ho incontrato sembrava una scena da film di Sergio Leone. Nel senso che io l'ho visto, mi sono emozionato e non sono riuscito a dire una parola. Ci siamo guardati negli occhi per un po', appunto sembrava una scena dei film di Sergio Leone, magari con la musica di sottofondo di Morricone. Poi gli ho detto che stavo scrivendo un libro su di lui. Lui sapeva che aveva scritto un libro su Buzz Spencer perché aveva visto le bozze, eccetera. e lui mi ha ringraziato. Ecco, questo è stato il primo incontro per me, molto molto bello. E poi ci siamo rivisti a Campo Imperatore, una giornata, abbiamo passato una giornata insieme, per un anniversario del film di Trinità. E lì ho potuto parlargli un po' di più, stargli un po' più vicino e confermo tutto quello che ho scritto nel mio libro. Terence Hill è Don Matteo, Terence Hill è Don Matteo nel senso dell'umiltà, come dicevi tu, è Trinità nel senso della simpatia, è un po' tutti i suoi personaggi che ha messo sullo schermo e con cui ha lasciato un messaggio, nella trama leggera dei suoi film, però un messaggio forte. È la speranza di una vita che può essere una vita bella, se vissuta nel bene. Io credo che questo sia qualcosa di straordinario. Che bello, davvero grazie Don Samuele per averci raccontato un Terence Hill, potremmo dire, per certi versi quasi inedito, che attraverso le pagine del tuo libro, la cui copertina ora la regia ci mostra ancora una volta, hai voluto riproporre al pubblico e al grande pubblico. Grazie, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie, grazie. Don Samuele Pinna, autore del suo nome è Terence Hill, una vita da film, ancora edizioni, eccolo qui. Grazie ancora Don Samuele, ti aspettiamo al prossimo libro. Grazie, molto volentieri. Ciao, ciao, grazie ancora. Grazie, grazie mille. Andiamo in pubblicità e poi ancora un altro ospite. Grazie. Grazie. Grazie.